Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3, è il 14 agosto dell'anno 948. Il nostro sovrano, lo andiamo a vedere, è il Malik Mubashir II della famiglia dei Mainun Al-Madina. Questo uomo, sappiamo tutti, è la persona più malvagia che abbia mai calcato le terre di Spagna, però nonostante questo è riuscito a tenere ben sotto controllo tutta la situazione e ad ampliare il regno, praticamente fino a confini mai visti prima. Togliamo la pausa tenendo la velocità a 3 e visto che ho ricominciato a giocare da un po', anzi dopo un paio di giorni di pausa, diamo un'occhiata alla situazione. La corona di Khalid presto andrà a distruggersi, possiamo riforgiarla con solo 38. La corona di Khalid non la portiamo più sul capo se non ricordo male perché abbiamo adesso la corona di Mubashir II al ragno. Hook, an incriminating missive. Allora, possiamo creare un gancio sullo Sheikovazir al raman di Marida. Vediamo un po'. Per 5 anni avremo meno 10 opinione, oppure I should think more carefully about this. Sì, no, non voglio avere danni di opinione, chiedo scusa. Mi piacerebbe però iniziare a chiedere di avere una regalia a un altro trinket. Abbiamo dei principi che vogliono, il nostro mezzo fratello vuole ad esempio essere parte del regno, ma in realtà guardate che il nostro mezzo fratello Abd al-Wahriit ha un 18 in diplomazia. potremmo assegnarlo al posto di Yusuf. Penso che Yusuf se la prenderà. Sì. In realtà credo che sia buona cosa migliorare le relazioni con questi personaggi che vogliono un posto al trono. Posso fare uno Sway. Vediamo se ci sta... Sway, Sway. Ok, va bene. Il primo lo stiamo facendo su Lemiro Abbad e l'altro lo facciamo sul principe Abd al-Wahriit. Ok, va bene. Chiudiamo. Non ho assolutamente intenzione di cambiare il governo. Per adesso. Potrei cambiare l'idea fra due minuti, ma per adesso lo lascio perdere perché abbiamo uno Stedulo maresciallo e uno Spymaster che sono eccellenti. Un cancelliere invece che è mediocre. Posso dichiarare guerre? Posso assegnare un guardiano a Munia, ma è non. Munia, credo che sia la principessina che non ha al momento nessuna educazione. Diamole un'educazione. Ecco, non spio... non intrigo, non intrigo. Diamole un'educazione militare per quello che può servire e chiediamo un'educazione mettendo come guardiano. Vediamo qualcuno che abbia un altro valore militare. Un nostro cavaliere. Sono curioso di vedere se Munia è diventa una donna guerriera. No, poi il punto è che, vabbè, può far ridere, ma posso poi farla diventare tutor di futuri bambini guerrieri. E poi posso imprigionare lo Sheikovizar, che è quello su cui sto facendo proprio il gancio. Ok. Togliamo la pausa. Allora, a corte è tutto sotto controllo. Abbiamo una grandora 4. La grandora, ragazzi, onestamente non l'ho ancora neanche considerata. Non siamo mai neanche passati a dare un'occhiata a quali sono le corti migliori del mondo. Va bene, lo facciamo adesso. Il Basileo Hectorius di Visanzio, Carlo Mando di Baviera, Luigi di Liotaringe, Luigi di Westfrancia, Trislav di Vallacchia e poi seguono India, Italia, ancora India, ancora Isfrancia, Aquitania. Noi siamo la tredicesima corte del mondo. E non fa schifo, però, insomma. Voglio vedere se... Personal Skin Power of Style, Court Candor. Ma potrei aumentare un po' il numero della servitù. Cioè, senza un po'. Potrei aumentare il numero dei servi. Perché aumentando le court amenities a un po' di servi, possiamo sbloccare intanto più il reclutamento di ospiti e poi abbiamo un piccolo rafforzamento dei nostri complotti. E questa cosa, vedete che si fa bene ogni tanto a dare un'occhiata. Poi andiamo a vedere la cultura. La cultura andalusa che adesso sta ricercando le barracks. Dovremmo averle fra 13 anni. Mentre invece, vedete che pian piano, molto piano, molto, molto, molto piano, le andaluse e le innovation vanno avanti sull'early medieval. Intanto abbiamo guadagnato tasse in più e dal momento che siamo dei greedy abbiamo perso un botto di stress. Che meraviglia. E i miei occhi sono caduti su Reconchista, che è un'innovazione nostra, andalusa, che sconta i casosbelli e aumenta la pietà. Ok. Adesso i soldi iniziano a essere parecchi. Iniziano a essere parecchi. Io quasi quasi vado a fare un artefatto. Voglio un artigiano. Ho bisogno di un antiquario, ragazzi. Un antiquario che potrebbe essere Musa Faradin, che è uno scolaro, un buon pensatore, ottimo cortigiano, perfetto per questi lavori. E andiamo a commissionare. Regalia. Ok, a court is scorned. Why would you honor Musa Faradin? E non me, dice Nicky. Perché tu fai schifo, Nicky. Perché tu non sei capace, Nicky. Perché tu non sei capace. Però potresti diventare court tutor. No, sei ignorante come una capra. Vattene, Nicky, vattene. Così, si trattano. Così si trattano i cortigiani arroganti. Prossima dinastia. Ci potremmo arrivare in questo episodio. Chi lo sa? Forse. E intanto qui il complotto è stato scoperto. Maledizione. Io, quest'uomo, adesso lo imprigiono. Quest'uomo è della famiglia Illiki. È sposato con un'altra Illiki. Tutto in famiglia. È su Itomanabama. Ci detesta. Ed è vassallo. Perché ha sotto di sé Maridà, Albash, Bataluis e Kasras. Io adesso lo vado ad imprigionare e spero di cuore che la cosa non funzioni. Perché se non funziona, prende le armi contro di noi e poi possiamo spogliarlo. Del titolo, se non ricordo male. Non mangiatemi se sto facendo un errore. Non mangiatemi mai se faccio gli errori nei giochi perché dovete proprio dovete... vi dico un segreto. Quando cercate di intrattenere una persona, o magari 8.000 persone, 15.000 persone, sul videogioco, capita spesso che il focus sia più su quello che si cerca di raccontare come storia che sulle meccaniche. A volte si fanno cazzate. Ecco. Lo dico perché ogni tanto su questi 15.000 che guardano la serie, a un paio sfugge la cosa. Imprigioniamo? Speriamo che la cosa funzioni. Speriamo che la cosa funzioni. Sì, ha funzionato. Benissimo. Benissimo. A Cordoba facciamo raise all here. E adesso abbiamo soltanto gli sway in progresso. Ok. 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 Benissimo. Battaglia in campo aperto. 6.800 contro circa 4.000. Ah! A name to be remembered. Oh, solo Dio mi guida. Così guadagniamo fede. Benissimo. Così guadagniamo più fede. Il devoted servant ha più opinione degli asciari. Bene. La solitudine nel grande salone. Stiamo parlando dell'educazione del nostro figlio con questo evento. Allora, father potrebbe rimanere timido. Father è la nostra rete, quindi c'è da stare attenti. Impaziente oppure ghiottone. Ah, Gesù. Fanno tutti schifo. Impaziente probabilmente è il migliore perché va ad abbassare il learning e le opinioni, ma aumenta e non di poco il prestigio mensile. Il ghiottone, il ghiottone no. Il ghiottone abbassa lo stress, ma abbassa anche la stewardship. L'essere timido è una grandissima rottura di scatole perché poi questa timidezza si potrà protrarre. A meno che noi non vogliamo che il prossimo sovrano, se giochiamo di ruolo, figlio di Mubashi a secondo il crudele, tema anche il padre. Tema talmente tanto il padre che nasca veramente timido. Accetto la sfida, ragazzi. Avrei preso impaziente ma vado a prendere timido per cercare di vedere che tipo di personalità svilupperà il nostro sovrano. Inizio a pensare che forse giocare un po' più di ruolo può essere divertente. Non sempre perché a volte giocare di ruolo preclude veramente troppo, però in questo caso mi piace l'idea. Intanto abbiamo vinto una battaglia e cerchiamo di prendere la capitale nemica, velocizzo A4 e qui abbiamo un'ispirazione che può essere sponsorizzata, una scultura da parte di questo... Oh che però! Oh che però! Oh che però! Va benissimo, recluta la corte questo uomo, costa 80. Io lo recluto questo uomo. Lo so che non serve reclutarlo, ma lo recluto. e spendiamo 338 ducati per commissionare una scultura. Praticamente ho dilapidato gli interi risparmi di anni per avere una scultura e forse uno scetro. È incredibile, è incredibile. Andiamo sul consiglio a dare... Disrupt schemes, perfetto. Collect taxes. Organize army, no. Cerchiamo di portare a casa più controllo in questo momento. Eh, stiamo perdendo, stiamo perdendo denaro. Inspiration, envious artisan. Edza è invidiosa. Corte. Celebrating another culture. Festival a Granada oppure avere un piccolo mashrighi fair. E costa troppo però. Non posso spendere risorse. Adopted commoner ci abbassa la diplomazia e la general opinion, no. Guardiamo stress. E salvation must be achieved through everything. La fine è vicina. Guardiamo il tratto inappetente. Ma per carità. Bruciamo questo eretico. L'eretica che dice che la fine è vicina è questa donna. Addio. Ok. Ok, abbiamo aumentato lo stress un'altra volta. E non abbiamo i soldi per... Fare feste. Però vedete che possiamo tranquillamente perdere stress parlando. Con il nostro... Confidente. Ok, sui su... Abdel Varit. E... Inspiration, someone to impress. To Ayanna su Yasmin. Yasmin può diventare la mia amante. È una 45enne carina. Ayanna sta visitando la mia corte. I find other ways to impress whoever I want. Non mi interessa nessuno di questi due. Devo chiudere la guerra in fretta. Intanto ho recuperato una spada che apparteneva probabilmente a questo nobile, saccheggiandogli la casa. E prima di entrare in debito andiamo a fare un'altra battaglia campale perché forse è l'unica che riesco a fare con tutti i modificatori al massimo. Perché adesso presto andremo veramente indebitato. Vediamo di attaccare di nuovo. Inspiration Realized, Andalusian Regalia o Regalia. L'accento lo sbaglio sempre. Più prestigio, più opinione della dinastia, più attrazione. Ok, this is lovely. Questo è quello che ci ha costato poco comunque. E... Dove sei? Benissimo. La spada non la cambio, preferisco ottenere la nostra lancia. Prowess and enemy father casualties. Va bene. E abbiamo perso la court physician. Ok, qui abbiamo un problema. Quest'uomo vuole altro denaro. Diamo gli altro denaro e entriamo in debito. Entriamo in debito. Digging for dirt, find secrets, velocizzato. È un peccatone grosso perché adesso avremo dei problemi ma è la vita. Il prezzo della guerra? No. Ok, posso vendere la corona di Malika? Abbassando la sua opinione che è comunque molto alta. Nostra moglie, amica e lover. Vendiamo la sua di corona e questo ci risolve il problema del denaro. È bellissima l'idea di Bumbashir II che vende la corona di sua moglie per finanziare la propria guerra. Ci sta con greedy, content e cynical. Contento perché dice tanto io ne ho già una perché ne servono due. Giusto? E intanto abbiamo una scultura andalusa. Non so perché è un Buddha. Però la statua andalusa aumenta il prestigio e abbassa la tirannia. Questo è un bel numero, eh? Abbassare la tirannia. Aspettate che qui devo fare la partita a scacchi. E abbiamo vinto. Mettiamo qui la scultura. No, Jewelry Casket, va bene. E scusate, dove la devo mettere? Eccola qua, dall'altra parte. La scultura, allora, nella corte è un corvo, il simbolo è un Buddha, noi siamo islamici. Paradox, ti prego, sistema queste cosine perché a volte si fa un po' fatica a capire che cosa abbiate in mente. Va bene, non abbiamo più stress. No, comunque sta cosa è ottima. Mettiamo in carcere quest'uomo. Mettiamo in carcere quest'uomo e andiamo subito a revocare i titoli. Ne posso revocare soltanto uno. Vediamo, vediamo. Questo è un atto di tirannia. Ne posso revocare uno. Però adesso che ho revocare questa città, io posso assegnare questa città. Mi piacerebbe assegnarla a un figlio o a una in una madina. Qui ad esempio abbiamo un cugino che è Tamim. Fatemi guardare con calma. Allora, Lemiro il Maria? No, perché lui ha già, secondo me, due titoli. Lemirato di Sbille e lo Sheik. Ok, va bene. Lasciamo perdere questo. Do un attimo un'occhiata al vuoto. Guardate, guardate. Vazir imd Vazir. È un maion almadina di 23 anni. Figlio dello Sheik, o Vazir, che ci detesta. E probabilmente anche l'erede. Vazir ha già cabra. Ah, ok, ok, ok. È un peccato perché avrei assegnato a lui la provincia, visto che è anche un mayor trainee. E sì, ma in un'almadina, sapete, abbiamo slocato questa cosa per cui alcuni potrebbero avere dei tratti per la gestione delle città. E no, niente, dobbiamo trovarne un altro perché altrimenti poi le due famiglie diventano... La famiglia diventa troppo potente. A questo punto lo do a Tamim. Do a Tamim la città. Non è il migliore, però può fare il suo lavoro. Tamim diventa... E' morto... Oh, è morto il court chester. E anche la taifa di Battagliavis. Adesso Tamim è molto felice, ovviamente. E il suo erede, però, è la persona Ali Mariam. Quindi devo stare attento perché in futuro potrebbe carsi una famiglia forte qui sotto. Però, chi se ne frega, perché questo ci va ad evitare il problema che avevamo di avere troppi, 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 troppi... Vassalli, troppi, troppi ducati. Non troppi vassalli, ma troppi ducati, quello era il problema. Adesso rilasciamo lo Sheikko che era in prigione. L'ho buttato nel dungeon, ma lo rilascio perché non me ne frega nulla. E lo vado a dare, lo vado a dare al nuovo sovrano. Quindi adesso se andiamo qui, Tamim, vedete? Poi ci sono le città e qui abbiamo... Eccolo qua. Vazir, che ci odia, però. È la vita. È anche uno stregone. Gli chiediamo la conversione, vediamo se accetta. Perché se non accetta, penso di poterlo arrestare di nuovo. No. Ok. Va bene. Ok. Allora, nel frattempo, Nemiro di Saragosta ci scrive una poesia. Cameron, I can see this is truly heartfelt. Mi tocca veramente il cuore. Andiamo a vedere se possiamo prendere un Cold Physician. Musa Faradini in realtà va benissimo. È il nostro antiquario e adesso anche Cold Physician. E adesso, come sempre, abbiamo il problema dello stress. Vediamo adesso di... Abbassare lo stress in qualche modo. Ok, sprendiamo del prestigio per bloccare una guerra interna. Una festa costa di 100, una caccia a 133. Iniziamo ad andare a caccia. Iniziamo andando a caccia. Abbiamo trovato del popolo che caccia nelle nostre foreste. Possiamo guadagnare prestigio abbassando la popular opinion. Assolutamente. Assolutamente. Malvagità assoluta. No, abbiamo beccato un cavolo. Va bene. A Changing Mind. Nostro figlio sarà Fickle? Fickle non è un cattivo bonus. Perché dà più intrigo, diplomazia, abbassa la stewardship, ma comunque un più uno in totale e resiste ai complotti ostili. Oppure può essere contento, oppure trusting. Trusting com'è? Meno intrigo, più diplomazia e più opinione. Però c'è il rischio. Onestamente, Tango Fickle non è male. Non è affatto male. Malika è incinta a 41 anni. Nostra moglie. Bellissimo. Bruciare i vigneti. Ma no. Non li bruci... Eh no, invece sì. Devo bruciare i vigneti perché... Perché fanno il vino. Holding Taxis è un po' più l'opinione a Cordoba. Che palle. Che palle, ragazzi. Speravo meglio. Va bene. Visto che non avevo portato al massimo il nostro monetario di caballeros, adesso porto a 500 il numero di cavalieri a disposizione. E poi provo a vedere se torno nelle mie città, se posso costruire qualcosina di utile per il nostro denaro. Sapete, dicevo sempre, evitiamo le strutture militari perché quest'uomo vuole investire denaro per fare denaro. Intanto quest'uomo ha 49 anni. Every nook and cranny. Improved defenses. Ok, visto che abbiamo soltanto uno sway al momento, su un uomo che ci dà comunque 35. Ed è buono. E' nata la figlia. Fatima. Bellissimo nome. E' molto Fatima. Andiamo a migliorare Alicante. Andiamo a vedere nella zona del reame e dei vassalli. Quali sono? Quelli che mi odiano. Vazir. Io... Io Vazir lo lascio per il momento a quel punto. Lo lascio lì dov'è? Mi vado a migliorare. Ok. Beh, rimane praticamente soltanto Vazir come nemico. Vazir di Cabra. E' nostro zio, tra parentesi. Ok. Tanto è un bravo guerriero. È un guerriero santo. Che cosa succede se è così? Insomma. Decidiamo di conquistare magari un Ducato. A parte che non si può. Potrei prendere... Potrei tentare di prendere dei pezzi dell'Algarb. Sono tutti alleati. Ah, attenzione. Saragossa adesso si è alleata di Leon. E qui Bahia? Bahia sembra più da sola. Ok. Aspettiamo di diventare il Last Years e poi cerchiamo di... Oh. E poi cerchiamo magari di conquistare l'Inter Ducato. Perché comunque adesso ad espansione territoriale sono contento e ho i soldi per foraggiare future guerre. Questo è importantissimo però. Nuova grandeur. Chased by Shadow. Qui c'è chi – Oh. ok abbiamo guadagnato una perk di intrigo grazie a questo piccolo gioco enemy hostage chances meno 25 enemy success chance meno 10 benissimo a chi no hai greedy questo lo possiamo tenere oppure last full no li teniamo greedy e quindi adesso faddle ha finalmente tutti i tratti che sono che saranno i suoi timido cambia idea spesso ed è amante del denaro ed è anche melanconic malinconico il prossimo principe faddle non sarà affatto un buon sovrando dal punto di vista genetico il problema è che sembra che non abbiamo molte alternative e adesso è morta la nostra moglie quindi aumentiamo anche lo stress maledizione ok corte reale un cacciatore felino possiamo avere un pet cat e avere ragazzi si muvescio il secondo deve avere un gatto che gli aumenta anche l'intrigo cosa dite? ok devo finire l'episodio mi è partita la sveglia il nostro gatto sarà ovviamente ombra shadow visto che tutto gioca in inglese e io non so come si dice ombra in arabo andaluso facciamo così intanto faddle is more likely to receive an education possiamo cercare per faddle a questo punto una futura moglie che abbia dei tratti genetici buoni e che si ecco ad esempio qui c'è un genio genio oppure amazzone sarebbero quelli migliori bella così così Uda sette anni lì da quattordici Ayal robusta andiamo su andiamo su Uda perché la moglie dovrà bustare i suoi tratti quindi lì da quattordici ok fra nove anni si possono sposarvi avrà ventitré anni va benissimo ok perfetto in tutto questo signori è il momento di chiudere è giunto il momento di chiudere l'episodio e in questa fase abbiamo la struggle che sta arrivando molto molto vicino al compromesso whatever it takes whatever it means abbiamo la famiglia che può sbloccare dedicated contributors city building construction time city building construction cost queste sono tutte cose molto buone però sapete che dicevamo potremmo aumentare anche e insomma visto che comunque io questi questi vantaggi li devo sbloccare un po' pensando ai tratti di questo sovrano coterie sicuramente no custom nemmeno io per questo sovrano potrei pensare veramente a gui glory ma io direi gui aumentiamo il dread gain del 20% e quello naturale di 15% e quindi la nostra famiglia metropolitana e anche un po' assassina adesso ha avanzato ha migliorato l'opinione io qui continuano ad arrivare le richieste di divorzio a raffica le accetto perché veramente ormai non so cosa farci vi ringrazio per essere rimasti con me vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio